big up ragazzi qua jolly siamo qui con questo nuovo video oggi sono qui con un video un po particolare ovvero i 15 oggetti più costosi che si possono trovare vi ricordo prima di cominciare di lasciare un bel mi piace un commento e niente premessa fatta iniziamo subito al quinticesimo posto troviamo devo leggerlo perché è impossibile da dire il prantonics discovery 925 che sarebbe una regolare bluetooth ricoperto di oro e robe bellissime dal valore di circa 40 mila euro e ancora siamo solo all'inizio al quattordicesimo posto troviamo una tazza d'oro per noodles in un cofanetto con un tovagliolo e una forchetta più o meno anche lei qua 40 mila euro chi non mangerebbe nudo su una tazza dorata giustissimo al tredicesimo posto trovi già mi viene da ridere troviamo il teodent 3000 sembra una cosa fighissima ma in realtà è semplicemente un dentifricio che costa la bellezza di 80 mila euro questo dentifricio è fatto di sostanze non tossiche soprattutto è ricoperto in un involucro tutto dorato da cui derivano gli 80 mila euro il fungo più costoso del mondo ovvero il tartufo bianco alba che vale la bellezza di 160 mila 406 dollari ora iniziamo le cose pesanti stiamo iniziando a scaldarci carta igienica d'oro da 22 carati un milione di euro champagne più costoso al mondo il good the diamond 1.2 milioni di euro il cane più costoso del mondo e nonché anche il più raro ovvero il tibetan mastiff con la bellezza di 2 milioni di euro ti puoi portare a casa questo bel cucciolo la fotografia più costosa mai venduta ovvero il rain secondo fatta dall'artista andrea gursky tedesco quindi artista tedesco venduta per la bellezza di 4 milioni e 300 mila euro auto più costosa al mondo lamborghini veneno 4 milioni e mezzo o poco più di euro adesso iniziamo ad entrare nell'aria un pochetto più calda quindi reggetevi forte il libro più costoso del mondo per il codice leicester di leonardo da vinci vale ben 30 milioni 800 mila euro il violino più costoso del mondo non mi ricordo il nome quindi lo leggo stradivarius 1719 mcdonald 45 milioni di euro aereo più costoso del mondo airbus 318 elite private jet 62 milioni di euro ma adesso signori entriamo nella top 3 questi qui veramente sono preparate reggetevi forte il computer più costoso del mondo che vado a leggere perché ha un nome impossibile il milky way 28243 un super computer che si trova in cina e vale la bellezza di 400 milioni di euro al secondo posto la casa più costosa del mondo 2 miliardi di euro cioè allora premettendo che a me fa cagare come casa a me non piace ma poi dico 2 miliardi di euro ma non è fatta manco di diamanti come fa a valere 2 milioni di euro 2 milioni cazzo dico 2 miliardi quali 2 milioni 2 miliardi ma 2 miliardi c'è qualcosa che costa più di 2 miliardi di euro sì infatti al primo posto troviamo una stazione spaziale internazionale in orbita a 380 chilometri di distanza appunto dalla terra sapete quanto costa con calma se tutti comodi piacetevi forte mettete un like ora prima che si venite perché veramente 150 miliardi di euro cosa quindi ragazzi il video finisce qui vi ricordo come sempre lasciare un bel mi piace un commento se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi se volete condividete questo video un po ovunque facebook whatsapp twitter vi ringrazio come sempre il grandissimo supporto che mi date ogni giorno e quindi niente da gioia è tutto big up ciao 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 ciao